Notiziario del commercio. Decreto del fare. Il decreto legislativo 69-2013 è stato convertito in legge. Oggi legge 98-2013. Invito tutti a prenderne atto perché introduce diverse novità sotto l'aspetto lavorativo. Tra le altre, la garanzia diretta offerta dallo Stato alle imprese per l'accesso al credito. Bene, questo tipo di garanzia, che fino a oggi è stata dell'80% solo per il meridione d'Italia, col decreto del fare viene allargata l'80% a tutto l'intero territorio nazionale. Pensate che solamente nel 2012 sono state accolte 34.000 domande di garanzia per un totale di concessione di prestiti di circa 5 miliardi, che ha in qualche modo aiutato le imprese a mantenere attivi i loro canali lavorativi. Bene, questa attenzione del legislatore sul fondo centrale di garanzia sicuramente ci dà una buona prospettiva di sviluppo per le imprese. Infatti anche i parametri di accesso al credito che in precedenti notiziari sono stati citati, tra i quali quelli del 30% del volume d'affari oppure semplicemente la presenza in azienda di 4 o più lavoratori o il locale aziendale in affitto o di proprietà, questi parametri sono ulteriormente stati semplificati, quindi l'accesso al credito potrebbe diventare di nuovo una realtà per le nostre aziende. Oltre a questo il decreto del fare semplifica moltissimo anche l'aspetto del DURC. Tutte le imprese che con il DURC hanno avuto delle difficoltà in passato perché scadeva entro i tre mesi, è stata data adesso durata di 120 giorni e nelle fasi dell'appalto praticamente è stata soppresso la richiesta continua nelle varie fasi d'appalto, quindi il DURC adesso richiedendolo la prima volta al momento della concessione dell'appalto per 120 giorni è valido. Piazza Armerina. Incontro sul diassetto territoriale svolto, promosso da Confesacenti Piazza Armerina sul tema liberi consorsi che si è svolta a Piazza Armerina appunto il 30 agosto ultimo scorso. Ebbene il 5 settembre il comitato che è emerso da quell'incontro ha incontrato l'amministrazione comunale di Piazza Armerina che si è detta pronta ad attivare gli incontri con i sindaci dei comuni limitrofi per avviare un percorso comune di liberi consorsi. Nicosia. Purtroppo la vicenda del tribunale di Nicosia sembra complicarsi e non avere nessun tipo di possibilità di ritorno. Continua la protesta di tutta la cittadinanza, di tutti i sindaci anche dei comuni limitrofi, anche se il 5 settembre è stato dato l'ordine di esecuzione del trasloco. Non ci spieghiamo come mai in una regione come la Sicilia dove sappiamo bene che il mancato sviluppo dei territori è stato prodotto dall'assenza delle infrastrutture, si continui a penalizzare dei territori che pagano lo scotto di non essere stati in precedenza sviluppati. La difficoltà che hanno avuto le nostre imprese su territori del nord della provincia a portare avanti le proprie attività o anche semplicemente i nostri cittadini che per qualunque esigenza devono spostarsi, fare 50 km di strade che chiamarle strade e fargli un complimento. Non ci spieghiamo perché ancora oggi debbano pagare sempre le stesse categorie, le stesse persone. Lancio un appello a tutti coloro che in qualche modo possono intervenire su questa vicenda affinché non si tolgano pezzi della nostra provincia. A risentirci al prossimo notiziario.